Hey dudes, bentornati nel programma, tu sai già che io so che tu sai chi io sia, ma per quelli che non sanno chi sono, io sono Lucky e oggi andremo a fare un silent cook up proprio così, easy, voglio far vedere le persone come faccio un beat ho trovato questo sample che mi è piaciuto tantissimo fin dall'inizio, è un sample stile 3P Red XX Tension volevo principalmente provare ad essere di ispirazione tutte le persone che vogliono provare a fare dei beat lì fuori proprio per questo voglio fare in modo silenzioso, io dopo mi muterò il microfono e vedrete principalmente solo lo schermo quindi buona visione, nel caso dovessi parlare toglierò il mutuo dal microfono Grazie a tutti! 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 Porca troia! Grazie a tutti! 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 e a tutti! e a tutti! Grazie 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 a tutti!